La dottoressa Annalisa Casino è l'autrice del libro Stewardship, politiche e pratiche per una gestione etica delle risorse. Presidente, secondo lei la crisi che ruolo ha sul riconoscimento dei principi etici e se c'è la possibilità che può renderlo più difficile? Io credo che sia il contrario, proprio per il fatto che siamo in un momento di crisi e quindi in un momento in cui tutto è in un certo modo in rifacimento, tutto in ripensamento, i principi etici sono quelli che danno la possibilità alle persone che sono in difficoltà di rivalutare e rivedere in modo migliore invece quelle che poi sono tutte le realtà che ci sono intorno. Presidente, un'altra domanda, ma in che modo si possono gestire eticamente le risorse? Questa è una bella domanda ed è molto difficile perché naturalmente non posso essere io a dirlo in assoluto. Sicuramente la Stewardship è una strategia che ci dà la possibilità di in qualche modo gestire eticamente le risorse attraverso tutte le politiche, gli standard e anche le strategie che ha messo a punto nel corso degli anni e in tutti i possibili ambiti in cui viene applicata.